Per cominciare, Elia Mosca ha un'idea meravigliosa, un bel giorno. Rivoluzionerò il sistema bancario. Si mette lì, fonda la sua x.com, che nella vita reale è quella che poi è diventata PayPal, che era invece il marchio di Peter Thiel, e sullo zero a zero si fa sei mesi di arresti domiciliari. Dopo sei mesi capisce che toccare il sistema bancario non è una grande idea in Italia, e quindi un giorno si ferma e ha l'illuminazione della sua vita. Farò la vita. Grazie.